La nuova procura di Catanzaro è in realtà una storia, spiega il procuratore Gratteri nella cerimonia di inaugurazione oggi, nata sei anni fa, esattamente il 16 maggio 2016, giorno del suo insediamento in città, nel chiostro del Palazzo Storico. C'è anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, al quale Gratteri spiega come ci fossero già allora dei fondi disponibili per la ristrutturazione, 10 milioni di euro, eppure lo stabile rimaneva chiuso, non è stato facile, spiega, arrivare qui. Il sud è bellissimo, però scattano dei meccanismi strani. Cosa significa questa struttura e il suo percorso per questa terra? Il sud non è la terra delle incompiute, anche al sud è possibile in tempi ragionevoli realizzare opere importanti, come è stato l'aula bunker di La Mezza Terme, come lo è questa procura e come saranno altre opere che sono già in cantiere, che sono già in progettazione. Alle parole di Gratteri fanno eco quelle del ministro Nordio. E qui abbiamo proprio un esempio di come si sia coniugata la giustizia con l'arte, con l'armonia, con le proporzioni. Una mattinata in cui si è respirato un clima di costruttiva speranza per una Calabria, in cui è difficile, ma non impossibile, ottenere risultati. Grazie a tutti.